Primo video dell'anno sui migliori portatili, mese di gennaio ci sono tante novità, tra cui l'arrivo dei nuovi processori Core Ultra. Sappiamo che questa è una nuova architettura portata da Intel che integra l'NPU per un calcolo in locale dell'intelligenza artificiale e che a sua volta comporta un'efficienza energetica migliore. Ora sarò onesto con voi, molti hanno parlato di rivoluzione, ma le mie aspettative sono molto con i piedi per terra, anche perché guardando i benchmark le migliorie si aggirano attorno al 20% e questo in una situazione ideale, quindi bisogna vedere poi nella realtà come si comporta. Al di là di tutto resta un hardware super interessante e su Amazon troviamo l'MSI Prestige 13 con Ultra 5 e Ultra 7. La prima configurazione ha per l'esattezza un Core 5 125H quindi legato alle prestazioni e non all'efficienza energetica come può essere la serie U. Troviamo poi un ottimo pannello da 13.3 pollici, QHD OLED, 16 GB di RAM LPDDR5 da 4800 MHz, Wi-Fi 7 quindi di ultima generazione, abbiamo la grafica integrata ovviamente Intel Arc che ha delle prestazioni che si avvicinano davvero alla produttività, il tutto a 1399€ ed è un prezzone. Data di uscita 31 gennaio, segnatela se dovete prendervi questo portatile. Passiamo alla versione più pompata con il Prestige 16 che ha l'Ultra 7 come abbiamo detto, 155H. Qui abbinata c'è un RTX 4060 quindi è un prodotto che sfocia assolutamente nella produttività. La cosa interessante è che con questo nuovo hardware che sfrutta l'intelligenza artificiale, lui quando c'è da produrre, da sfogare tutta la potenza, consuma il giusto, mentre quando si guarda un film, quando si è sul browser, si riesce ad avere un'efficienza energetica molto interessante. La RAM qui ha la stessa velocità ma il taglio è da 32GB, resta Wi-Fi 7, il pannello è un QHD, questa volta non OLED, a 2299€, davvero molto interessante. Usciamo adesso dal mondo degli Intel Ultra perché ovviamente quando esce un nuovo processore si abbassa il prezzo dei precedenti modelli ed è molto interessante questo Lenovo V15 G4. Lui ha l'I5 di tredicesima generazione, il 1335EU quindi legato al risparmio energetico, 12GB di RAM, DDR4 quindi non fulminea ma ottimo per il prezzo, 1TB di SSD a 569,90€, veramente molto cattivante. Ci spostiamo nell'ambito gaming con il prodotto più economico possibile, MSI FIN GF63. Vi anticipo due cose, la prima è che non abbiamo sistema operativo, la seconda è che qui l'hardware è datato, infatti abbiamo l'RTX 2050, il taglio di RAM che è 16GB e va bene, ma è DDR4 da 3200MHz, quindi un po' lentina. Come processore abbiamo l'I5 12450H e questo diciamo mette un po' la pezza a tutto quanto. Questo portatile con questo design, è vero che è datato, è vero che non c'è il sistema operativo, ma a 699€ secondo me è da prendere in considerazione. Altro portatile da gaming senza sistema operativo è l'HP OMEN 16. Lui ha l'I5 13420H, quindi un processore anche abbastanza recente, abbinato a un RTX 4050, una configurazione veramente per un gaming di tutto rispetto. 16GB di RAM DDR5, 512GB di SSD e il display è un 16.1 pollici da 144Hz. Il tutto a 899€ e 99 centesimi, 900 era troppo. Per gli amanti di Intel Arc c'è l'Erazer Measure X10, che ha l'I7 12700H, che per quanto datato è comunque ancora oggi un processore molto interessante, 16GB di RAM, 1TB di SSD, il tutto abbinato ad una GPU Intel Arc A730M. Quindi un portatile adatto al gaming, ma anche alla grafica. Il prezzo è di 799€. Il prodotto di fascia media perfetto per la mobilità è l'Asus Zenbook 14, perché ha un pannello OLED da 14 pollici, quindi ottima qualità ed è anche un formato trasportabile. Ryzen 5 7530U, quindi perfetto come prestazioni, come efficienza energetica, anche lato grafica integrata si comporta davvero molto bene. Taglio da 16GB di RAM, sappiamo che questi portatili hanno RAM saldata, quindi questo è un taglio perfetto, 512GB di SSD PCI Express, il tutto a 749€. Non aggiungo altro. Sempre per gli amanti dei dispositivi compatti con display OLED, c'è l'Acea Swift Go. Lui integra l'I7 1355U, 16GB di RAM DDR5, 1TB di SSD e il pannello, che appunto è OLED, ha una risoluzione di 2.8K. Il prezzo è di 999€, che è il suo minimo storico. Adesso i due prodotti con RTX 4060 e 4070 più economici. Il primo è l'HP Victus 16, che oltre all'RTX 4060 rappresenta l'I5 13500H, 16GB di RAM da 5600MHz, quindi veramente fulminea, e un display da 16.1 pollici da 144Hz, che si riesce a sfruttare con quest'hardware. Il prezzo è di 1099€ e 99 centesimi. Il portatile invece con RTX 4070 più economico è ancora una volta l'ASUS TUF Gaming. Con 1599€, oltre a una GPU di tutto rispetto, vi portate a casa un Ryzen 9 7940HS, quindi un prodotto che sì è legato al gaming, ma con questo fate anche modellazione 3D. In più, 16GB di RAM, 512GB di SSD, un pannello da 144Hz, insomma, veramente a questo prezzo. È un best buy. Concludiamo con un prodotto che non è mai mancato su questa serie, che è l'ASUS VivoBook Pro 16. È disponibile in diverse configurazioni, ma quella che ho scelto ha l'I9 13900H, una RTX 4050 da 6GB dedicati, 16GB di RAM e 1TB di SSD PCI Express, e il pannello è un 16 pollici OLED con un refresh rate di 120Hz. Insomma ragazzi, questo era il primo video dell'anno sui migliori portatili, ovviamente nei prossimi mesi ci saranno tante novità con l'arrivo di molti più prodotti con i Core Ultra. Fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate, lasciate un like e iscrivetevi per supportare la serie. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.